Oggi parliamo di aiuti alla mindfulness Parliamo del respiro, di etichettare E le pratiche durante le attività quotidiane Perché la presenza del mento e la mindfulness Non sono l'interno di will Perché la presenza mentale e la connessione Non sono lì per volere Per volontà Ma possono essere nutrite e sviluppate Anche se ricorda che quando ero 25 Ho avuto il mio primo ritorno in Sri Lanka E mi è stato un po' molto tempo Per sviluppare la mindfulness Anche se ricorda che quando era giovane 23 anni in Sri Lanka Ha impiegato parecchio tempo A sviluppare la mindfulness Aveva molte strane idee in testa Dopo due mesi La mindfulness ha cominciato a sviluppare Presenza mentale E poi una volta tornato in Europa È riuscito a sviluppare abbastanza continuativamente E quando la mindfulness è relativamente continuata Potremmo vedere aspetti del nostro mento I processi mentali I sensazioni che normalmente avremmo Oversi Or just see fragmented Perché se la presenza mentale è costante E continua Riusciamo a captare Delle sensazioni Dei pensieri Delle formazioni mentali Che in un altro stato Invece non noteremmo Oppure le noteremmo solo in forma frammentaria Anche solo in 30 secondi O un minuto Di continua presenza mentale Si possono percepire Le connessioni tra gli oggetti C'è un processo Da una percezione Che poi Da cui deriva Un pensiero Non ricordo esattamente lo sviluppo Però diciamo C'è un fiorire Del processo La percezione Il pensiero Il sentire E uno può essere più consapevole Dell'emergere E del passare Di differenti qualità Quindi la visione di vipassana Si può sviluppare solo Quando c'è una determinata continuità Di presenza mentale Perché la vipassana Non succede Con il pensiero Ma con la osservazione Perché la vipassana Non è legata Al pensiero Ma all'osservazione Diretta Vipassana Non significa Che non ci devono essere pensieri Ci può essere presenza mentale Anche In contemporanea Di pensieri Ma ora Nel nostro ritiro Siamo al secondo giorno Possiamo avere Ognuno Esperienze diverse Si, quindi Potrebbe essere Che non siamo In presenza mentale Mentre abbiamo Dei pensieri Ma invece Ci ritroviamo All'improvviso Ad accorgerci Che abbiamo Dei pensieri E quindi Quando si nota Possiamo ritornare Al respiro E alle sensazioni Dell'addome Che si solleva E si abbassa E se va dove tu puoi Connetterti Con questo E magari One or two Or three breaths And then Gone again Quindi due o tre respiri E va di nuovo Ok So That's For most Of us Reality Questa è la realtà Per molti di noi E Vipassana Vipassana è questo Vedere la realtà So When At that time In Sri Lanka The teacher Asked me At the first interview How long can you be With the Rising and falling I Answered Just Anything Because I didn't know So I said 20 seconds And He answered Can that really be? Davvero Ha risposto il maestro He didn't believe it He didn't believe me Non ci credeva So It doesn't mean That one cannot be With the breath 20 seconds But maybe Not On the onset Usually Quindi non significa Che un Non si possa stare Per 20 secondi Con il Con il respiro Ma normalmente Non di continuo So Mindfulness To grow Needs something What is called A momentum Quindi La presenza mentale Per crescere Ha bisogno Del cosiddetto Momentum We need To invest Mindful Moments Dobbiamo investire Dei momenti Mindful Presenti Questi momenti Si accumulano E quando si accumulano In qualche modo In qualche modo Crescono E si espandono Already Already When you are Getting Aware That there Is Thinking This is A moment Of mindfulness E già E già Quando sei Consapevole Del tuo Pensare Questo È un momento Di mindfulness La presenza mentale Non è solo Quando ritorni Al respiro E al sollevarsi Ed abbassarsi La presenza mentale C'è In qualsiasi Momento In cui Tu sei Consapevole Di qualsiasi Oggetto E anche il pensiero Il pensare È un altro Oggetto E puoi sapere Che nella tua mente Ci sono Come degli uccelli Delle immagini Parole You might Note Them Or Label Or You might Not Still You can Be aware Also Without Labeling E puoi etichettarle Oppure no E One can be aware Without labeling The labeling Is not awareness Sì L'etichettare Non è consapevolezza But labeling Is a kind of Sharpened Perception Ma L'etichettare È una percezione Acuta Sottile Perception Has a function Of seeing The difference Between Objects And remembering Objects That one Has already Experienced And then Is able to Kind of Label Them And No This is A glass And this is A bowl And this is A book Because I have seen it before And I know What are the features Of that And in this sense In a clear perception Is also helpful And necessary For mindfulness In questo senso La percezione Chiara È necessaria Per la presenza Mentale E quindi in alcuni testi Commentarii buddhisti Si dice che ci sono due Cause principali Da cui deriva La mindfulness And one Is clear perception Una è la La chiara Percezione And the second Is Mindfulness E l'altra è La mindfulness So that's funny But it points Towards this fact Of That Moments of mindfulness And again Moments of mindfulness Can develop A certain Momentum E questo quindi Mette in evidenza Come dei momenti Di mindfulness Accumulandosi Vanno a creare Questo determinato Momentum And it might be That at some point When you don't Expect it You might Experience this In your practice E può anche Succedere Che quando non Te l'aspetti Fai questa esperienza Nella tua pratica And the same Applies also To the Collectedness Of the mind To be able To stay For a while With an object E questo Succede anche Con la Capacità Di connessione Della mente Di stare Con un oggetto So One might Again and again Refer back To the breathing Be there For a moment Or two Or three Or a few breaths And then Gone again But through repeating That Not fighting But kind of More playful Perceivering Quindi puoi ripetere Due Tre respiri E poi andare Ma in un modo Un po' Giocoso Nel ritorno And kind of Playing With that At some point The mind Might just Settle For a while Ecco Giocando Giocando un po' Con queste Modalità A un certo Punto Semplicemente La mente Si può Stabilizzare And it's not that you make it by force But you have created The Conditions for it And now Just the time Is ripe Ecco E non è che tu lo fai Con sforzo Ma semplicemente In questo modo Anche giocoso Crei delle condizioni Finché la mente È matura And then the mind Thinks Oh that's great Now I'm really with it Ecco Poi la mente Pensa Fantastico Ci sono And then It's gone Ed è già andato Ok Or you are mindful Of that Oh sei consapevole di questo Yeah Of these thoughts That are kind of Commenting It's another type of thoughts Which after some time Tend to arise Anche questa È una cosa Che tipicamente Sorge E cioè Dei pensieri Che fanno da commentario Yeah So What can Support Mindfulness Che cosa Può supportare La presenza Mentale Perché possa Diventare Più Solida E potente I mean It is In one way There is An active Openness But there is Also A receptiveness Stare Quindi In un certo senso C'è Un'apertura Ricettiva E dall'altra La percezione So it's I also forgot it Sorry It's kind of In one way It's Active in a way But it's also Receiving in a way Quindi È sia Un atti È un atteggiamento Sia attivo Che ricettivo Ti ricordi di essere presente Ma anche di ricevere Quello che c'è Quindi non stai cercando Una particolare Esperienza Spesso Cerchiamo Delle esperienze Straordinarie Ma non è questo E quindi È un'apertura Al profano Niente di speciale Nello zen Dicono Niente di speciale Puoi stare Con Niente di speciale And How I remember My Brother I shouldn't mention People Who Meditated Here And At some point Said Now I know The breath Si ricorda Di suo fratello Che meditando A un certo punto Disse Ora conosco Il respiro So Just to find out That No He didn't know it It still could change It still could be in a different mode Semplicemente per scoprire Semplicemente per scoprire che invece no Non lo conosceva Perché questo può sempre cambiare Avere modi diversi Quindi lo si può conoscere per un qualche momento Si può ripetere in un certo modo Quindi anche lo stare col sollevarsi e l'abbassarsi della pancia è qualcosa che si ripete E quindi potete pensare Ok Questo è qualcosa a cui posso tornare Ti dà una centratura Ma la pratica della vipassana è molto di più che avere una centratura Una parte si è essere centrati Ma per altra parte è anche vedere e capire come stai In contatto con l'oggetto della meditazione Non mi piace dire concentrati sul respiro Ma stai col respiro La concentrazione è chiedere di concentrarsi per alcune persone Da alcune persone è vissuto come una forzatura Ma lo che è importante Per davvero arrivare in contatto Con un obiettivo O un obiettivo meditazione O qualsiasi cosa È Come posso arrivare in contatto Ci sono fattori di una mente concentrata Fattori di concentrazione Fattori di concentrazione Ne sono menzionati cinque And the first is called Vittaka in Pali And it means aiming Il primo è mirare a Vittaka And it means aiming Aiming Mirare a Sì Oh yeah Ok Ok Or it means to Get into contact Entrare in contatto So When I say Well Try to Really feel the right Foot Prova a sentire davvero il piede destro E quindi dobbiamo dirigere la nostra attenzione al piede destro C'è come un movimento della mente che va in quella direzione And When it's about Not just thinking about the right foot But it's about To sense the sensations of the right foot We have to activate that We have to kind of Get into This area Quindi non si tratta solo di pensare al piede destro Ma di entrare proprio Nella sensazione del piede destro So we have to direct the mind there Dirigere quindi la mente in quella direzione Or And the same can happen with rising and falling Directing the attention there E lo stesso con il Sollevarsi e abbassarsi Quindi dirigiamo l'attenzione Or let's say better The sensations of the abdominal area Per meglio dire Le sensazioni dell'area addominale Because I cannot direct the attention to rising and falling Perché non posso dirigere l'attenzione al sollevarsi e all'abbassarsi Because it can be either rising or falling But not rising and falling O è una cosa o è l'altra Ok So Directed here It might be rising or it might be falling Ok Quindi lo dirigo nell'area E potrebbe essere che sta salendo O abbassandosi Or sometimes a pause in between Talvolta c'è una pausa And sometimes little different sensations That you cannot really call rising or falling But it's still connected with the breathing and the movement here E talvolta non è così chiaro il movimento è appena accennato Ma in ogni caso è connesso col movimento del respiro E questo fattore di mirare ha la mente per un momento entra in contatto So the second factor of concentration or collectedness of mind Is called vichara and that sometimes is called rubbing Il secondo fattore della concentrazione è lo sfregare So what is meant is that for more than one moment you stick there The attention stays in contact there Quindi per un momento la mente si attacca all'oggetto Yeah So not just like you make a photograph then it's just one moment Ok Quando fai scatti una foto è solo un momento The film or the video is more than a moment It's many moments and then you can see the movement Nel film ci sono tante immagini in sequenza e puoi vedere il movimento So the same with rising We might just for a moment be aware of the sensation of the abdomen But then off we go again E così lo stesso Possiamo avere per un momento la sensazione del sollevarsi della pancia E poi va via E quindi con questo secondo fattore possiamo sentire sollevarsi, sollevarsi, sollevarsi Quindi una continuità E questo può succedere allo stesso modo all'abbassarsi Potrebbe avere un principio, uno sviluppo e una fine E noi potremmo essere consapevoli dall'inizio alla fine A volte quando c'è una ripetizione la mente può diventare come più Meno... Non così exact Non così exact O superficiale E quindi di nuovo dobbiamo mirare Che non è qualcosa di potente come un colpo Ma è chiaramente un'attività molto sottile e precisa A volte è indirizzare la mente A volte è rilassarla dentro A volte è indirizzare la mente, aprirla e poi ricevere Se indirizzi in modo potente crei uno shock Quindi è un'attività come stare con il respiro È un'abilità come stare col respiro E non è sempre lo stesso Il modo giusto Ogni volta dobbiamo trovare in quel momento qual è il modo E non è sempre lo stesso Ogni volta dobbiamo trovare in quel momento qual è il modo E puoi essere anche come un po' timido Ti puoi avvicinare, guardare e lasciarlo essere È interessante col respiro Perché lo possiamo influenzare Ma possiamo persino invece non esserne consapevoli Non dobbiamo fare nulla per creare il respiro Quindi non dobbiamo creare il movimento o non crearlo No Non dobbiamo creare nulla per creare nulla per creare nulla per creare nulla E anche se non si muove, possiamo solo sapere Sì Lo ripeto, quindi non dobbiamo creare il movimento e se non si muove lo sappiamo E basta Quindi, cosa possiamo imparare riguardo al respiro? Cosa possiamo sapere a proposito del respiro? Can we just let it be? Can we just leave it as it is? Possiamo lasciarlo essere così com'è It might be short, it might be long, it might be rough, it might be soft Può essere lungo, corto, spezzettato, morbido It might be evenly Sottile It might be irregular O irregolare It might be according expectation or not according expectation Potrebbe essere come ce lo aspettiamo oppure no So do you have an expectation? Abbiamo aspettative sul respiro? Or can you just receive it as it is? O possiamo semplicemente riceverlo così com'è? So if there is an expectation, it's important to know it and to not get caught by the expectation And then how is the quality of effort? Com'è la qualità dello sforzo? Sometimes there is not even any effort or energy to connect with the breathing A volte non c'è proprio nemmeno alcuna energia per connetterci con il respiro Because we might be so fascinated by our mind cinema Perché possiamo magari essere affascinati dal cinema della mente Or we might have the intention to connect with the breath Possiamo avere l'intenzione di connetterci con il respiro Or we are kind of connecting with the breath But because there is a certain expectation how it should be We are not really getting in contact with it Because we are kind of looking for something But we are not looking for whatever there is A volte abbiamo questa intenzione però abbiamo un'aspettativa sul respiro e quindi non funziona So it can be quite just leaning back and just let it be, let it arise as it is E quindi semplicemente ci posizioniamo un po' indietro e semplicemente lasciamo che il respiro sorga And if we can have these two factors of coming in contact and of staying for a while in contact And then again coming in contact, staying for some while, that can be breath by breath E quindi possiamo entrare in contatto col respiro, stare per alcuni momenti col respiro E poi ancora entro in contatto, ci sto, di nuovo e di nuovo ancora Ok And this can both be in that kind of mindfulness that is quite just in a small area We just feel the sensations in a certain area Quindi questo tipo di presenza mentale è proprio relativo ad una precisa area But it also can be that, as I said, sometimes we have, we leave some space around for other impressions that are also there but not in the foreground E come già detto possiamo anche fare spazio e lasciare che entri nella consapevolezza che entrino anche altre impressioni anche se non sono in primo piano And still there can be this connection with the sense of breathing or movement of the abdomen E ci può essere una disconnessione con il senso del respiro dell'addome E un'altra cosa ancora può succedere quella che lui chiama la più o la meno mindful E quindi può succedere che tu rimani in contatto col tuo respiro e raccogli tutto il gioco che c'è attorno E in qualche modo tu stai facendo bene il tuo lavoro Quindi attraverso i giorni possiamo sentire che qualità ha la nostra presenza mentale A volte è molto chiara, è vitale, a volte è più o meno presenza mentale E quando è questo più o meno mindful, allora può essere aiutato di chiedere qualsiasi obiettivo o potrebbe essere il respiro e vedere se puoi riuscire così chiaro come possibile E quindi se abbiamo una certa più o meno consapevolezza possiamo cercare di riconnetterci con l'oggetto e rendere questa sensazione più chiara possibile Certo ci sono delle fasi nella pratica in cui non puoi renderlo più chiaro ma questo è un altro argomento L'attenzione come può stare con un oggetto che in realtà è in continuo a fluire? Si ricorda di una meditatrice che gli disse che lei cercava di afferrare il respiro E quindi si esauriva in questo processo qualcosa che fluisce e lei cerca sempre di afferrarla Vuole vederlo molto chiaro ma nel momento successivo già è cambiato A un certo punto disse che un'immagine stava sorgendo Ed era un'immagine fumosa, il fumo che saliva E in questa immagine lei cercava di afferrare il fumo E in questa immagine lei cercava di afferrare il fumo E così la mente ha capito La stessa cosa che faceva col respiro E quindi è una certa abilità quella di stare con il respiro che è un oggetto in continuo cambiamento Come starci, come tenerlo Come starci, come tenerlo Secondo Topic And what can be interesting also is over the course of the sitting or of the day to see whether breathing or rising and falling is presenting itself always in the same way Or is it after a while changing and presenting itself in another way Quindi nel corso di una meditazione seduta o nel corso della giornata può essere interessante notare come si presenta il respiro Se è sempre uguale, se cambia Or sometimes it's obvious It started very pleasant And after half an hour it feels quite tense, for example Then just know that A volte è banale Inizia in modo molto piacevole per una mezz'oretta E poi inizia ad esserci tensione Or sometimes the rising might be long but the falling might be very short and quick A volte invece il sollevarsi è molto lungo e invece l'abbassarsi è veloce That's just some examples, don't think that that is the right thing you should Sono solo esempi e non sono delle regole da seguire Oppure può succedere che sei consapevole del sollevarsi e non dell'abbassarsi Or sometimes it's simply quite unpleasant and rough E a volte invece è sgradevole, un po' grossolano And sometimes it might feel pleasant like silk E a volte invece è piacevole come la seta And so just to know that Solo per saperlo So that keeps certain interest But not always looking for it just when it's obvious Ok, that's about the breathing You know, I'm a little bit excited Quindi questo sul respiro Ha detto che è un po' eccitato Why? Because Italy plays against Austria today Ha detto che c'è la partita Italia-Austria 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 Lui non l'ha incontrato, ma ha incontrato un suo discepolo, insegnante. E' un certo approccio alla pratica. Per alcune persone può essere utile, per altre meno, rispetto all'etichettare. Come ha già detto, è utile perché riguarda la chiara percezione che è parte della mindfulness. All'inizio della pratica quello che succede è che noi non vediamo molti oggetti. Vediamo il respiro, percepiamo delle sensazioni del corpo. Possiamo vedere pensieri. Sì, forse sentiamo del torpore. Ma l'attenzione ancora non è così sottile rispetto alla varietà di oggetti. E' questo perché ci vuole del tempo. Ci sono due suggerimenti. Quindi fare una etichetta mentale dell'oggetto primario e successivamente dell'oggetto secondario. Quindi per iniziare parliamo dell'etichettare l'oggetto primario. Quindi quando l'addome sale, l'etichetta sarebbe salire. Ma se l'addome si alza più veloce dell'etichetta, cosa facciamo? Un'abbreviazione. Ma se l'addome si alza più veloce dell'etichetta, cosa facciamo? Quindi ha detto che se il movimento è più veloce della parola, l'abbreviamo la parola. Invece se è al contrario, che invece impiega molto più tempo della parola. Lo possiamo ripetere, alzarsi, alzarsi, alzarsi. Lo stesso come quando fai un passo e mentre alzi il piede, lo puoi ripetere. È importante che dai l'etichetta che avvenga in contemporanea con il movimento dell'oggetto primario. Per esempio, osservi l'alzarsi e quando è finito noti e dici, ho dimenticato di etichettare. Questo è inutile. È la stessa cosa con l'abbassarsi. Solo quando succede, mentre sta succedendo. Le persone spesso gli dicono, quando etichetto l'oggetto, non riesco davvero a sentirlo. Può essere. E questo può essere. Però, ci sono due mani. Un'altra mani è, puoi lavorare in un modo così soffice che puoi guardare attraverso l'etichetta. Ci sono due possibilità. Dai un'etichetta che è così soffice che tu puoi guardare attraverso l'etichetta. Quindi non dare tutta l'attenzione all'etichetta, ma guarda attraverso l'etichetta. Sia nell'alzarsi, abbassarsi. Senti attraverso l'etichetta. Quindi l'etichetta è morbida come un sussurro. Perché etichettare l'oggetto primario? Perché questo aiuta la mente pensante ad avvicinarsi all'oggetto. E le persone poi quando arrivano a contattare l'oggetto scoprono che non hanno più bisogno di etichettare. Ma questo non significa che da quel momento e per sempre non ne avrai più bisogno. E quindi tu usi questo strumento quando è utile. Per esempio, se non sappiamo che parola usare. E quindi può essere utile usare parole molto semplici come alzarsi e abbassarsi oppure nemmeno. E quindi arriviamo all'oggetto secondario e qui pensa che etichettare può essere davvero molto utile. Perché ci può aiutare ad identificare alcuni oggetti. Ad esempio c'è un dolore. Non lo etichetterei come dolore. Non lo etichetterei come dolore. Piuttosto come bruciore. Or itching. Or hardness. Or hardness. Rigidità. Or vibration. Vibrazione. Or pulsazione. Pulsazione. Or burning pulsation. Pulsazione che brucia. Or bruciore pulsante. Stabbing. Stabbing. Ah, pungente. Yeah. Exactly. Numbness. Numbness. Intorpidimento, sì. Or heat. Calore. Or burning. Or cold. Freddo. So, we differentiate. It's not just pain. We differentiate. Quindi creiamo una specificità. Differenziamo. Now it can be that you can feel very clearly the sensations but the word doesn't come to your mind. Aha. Può essere che è molto chiaro quello che senti ma non ti arriva la parola giusta in mente. Then don't stress yourself then just leave it. Allora. Just feel it. Keep silent. Allora lascia stare, rimani in silenzio, non ti stressare. But sometimes if there's really some sensation that is quite obvious it might be that at some point the word arises and then, well, you can just once or twice label it with this word. Può essere che poi a un certo punto c'è una sensazione che si ripresenta e può essere che sorga la parola giusta e la puoi utilizzare. Può essere utile come farsi un repertorio quando si ripresenta riconosci la parola che avevi trovato. So, the same applies to thinking. Lo stesso con i pensieri. Quindi puoi essere consapevole dei pensieri, li vedi e in quel momento finiscono. Ok. E quindi in questo caso non c'è bisogno di etichettarli. Ma se sono appiccicosi questi pensieri, allora può essere utile etichettare pensiero, pensiero. Perché causa un cambiamento, uno spostamento. o se per qualche motivo certi tipi di pensieri stanno arrivando di nuovo e di nuovo e di nuovo, poi puoi anche lavorare più specificamente. Per esempio, planare o parlare. Perché nella tua immaginazione parlavi tutto il tempo per una certa persona. Ci sono certi pensieri che sorgono di continuo, di nuovo, di nuovo. Allora puoi essere specifico nell'etichettare. Ad esempio, programmare. Oppure parlare. Cioè, quel tipo di pensiero che ricorre, lo riconosci e hai una parola specifica. Ma non pensare troppo nella ricerca dell'etichetta. In quel caso, lascia stare. Il prendere nota anche mette in evidenza come noi ci relazioniamo con l'oggetto di cui prendiamo nota. Qual è il tono interiore di questo prendere nota? Mentre stavo meditando, a un certo punto avevo così tanti pensieri. E quindi gli veniva da dire in modo aggressivo pensiero, 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 pensiero. E quindi ho fatto l'esempio di un'altra persona che potrebbe notare il suo sentimento. E quindi ho fatto l'esempio di un'altra persona che potrebbe notare il suo sentimento. sorgere dalla paura e rilevarlo, appunto, con un atteggiamento di paura. Invece... So, the suggestion... Sorry. So, the suggestion is just to labor in a calm way. Ecco, dobbiamo etichettare in modo neutro, calmo. E non con l'intenzione di farlo andare via. È piuttosto un riconoscimento. È come un titolo. Ma non ci impantaniamo con il titolo. So, then, for example, if there is... you note drowsiness. Se noti un intorpore. Then, don't get stuck with the noting of drowsiness, but kind of experience it. How does drowsiness feel like? Allora, non ti bloccare con il prendere nota, ma fai l'esperienza di questo torpore. Find some interesting in drowsiness. Or, where noting or labeling can be interesting is regarding mental states or emotions. Etichettare, prendere nota, può essere interessante per le emozioni e gli stati mentali. Just to recognize them. And what... I don't speak too much about emotions now. That is later. Oggi non parla in particolare delle emozioni perché ne parlerà in un altro momento. Ma gradualmente possiamo scoprire sempre più emozioni e stati mentali. ed è importante riconoscere questi stati mentali e sapere che esistono. E l'etichettare aiuta a distaccarsi, a disidentificarsi da questi stati mentali. Riferisce di un'intervista dove una persona riferisce di un'immagine che sorge. ed era un'immaginazione molto bella. E questa persona nel colloquio quindi gliela descriveva. E anche lui era molto affascinato da questa immaginazione. che si è dimenticato di dire cosa dovrebbe dire un'insegnante. Ah, che si è dimenticato di dire cosa dovrebbe dire un'insegnante. Che cosa succede a te? A lui avrebbe dovuto dire ne hai preso nota. Ok. Perché ci possono essere bellissime immaginazioni, ma per essere mindi abbiamo anche bisogno di notare che l'immaginazione è un'immaginazione. Anche se è meravigliosa per stare nella pratica di presenza mentale dobbiamo prendere nota di quell'immaginazione. Quindi l'etichettare può essere utile. Ma è solo uno strumento. E uno strumento lo usi quando è utile. Quindi sta a noi trovare e capire quando ci è utile e quando no. o come un insegnante ha detto è uno strumento ma non è un martello. Sì, un insegnante ha detto è uno strumento ma non è un martello. Sì. 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 E... ma questo non vuol dire che tutto il tempo dobbiamo stare ad etichettare. in Burma. è un insegnante. Io ho lavorato. A un punto in Burma ho lavorato tutto. Perché il insegnante ha detto che devi lavorare 72.000 volte al giorno. e quindi si era messo a etichettare qualsiasi cosa. 72.000, sì. Quindi era la ricerca disperata di etichette oltre a sollevarsi, alzarsi e abbassarsi. E dopo qualche giorno non ne poteva più. E non aveva più alcuna gioia nella pratica. Sì. 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 Quindi si è reso conto che l'aveva preso letteralmente e non era corretto. Quindi giochiamo con lo strumento. Questo strumento può talvolta essere utile per ricordarti di essere presente nelle attività quotidiane. Questo strumento può talvolta essere utile per ricordarti di essere presente nelle attività quotidiane. Ed è importante perché anche le attività quotidiane aggiungono, fanno parte del momentum. che in realtà qualsiasi esperienza, quale sul cuscino o sul passaggio di meditazione o nel passaggio di meditazione o nel passaggio di meditazione o nel passaggio di meditazione ha la stessa importanza. Quindi anche se te ne torni in camera, chiudi la porta dietro di te, ancora ci può essere la presenza. Quindi il maestro gli disse anche quando entri nella tua camera puoi ancora prendere nota di allungare il braccio, toccare la maniglia, aprire eccetera. Anche quando ti infili la scarpa puoi prendere nota delle sensazioni del piede che entra e scivola nella scarpa. E questo, poi che tu usi o meno le etichette, è utile per essere consapevole del processo in atto. Ci legge un piccolo estratto di istruzioni del venerabile Mahasi. Non appena ti svegli Prendi nota, risveglio, risveglio. All'inizio della tua pratica ti sembrerà difficile prendere il primo momento del risveglio. Se un meditante non è in grado di prendere nota proprio dal primo momento del risveglio Dovrebbe, questo meditante dovrebbe comunque prendere nota dal primo momento in cui inizia a rendersi conto, a prendere coscienza. Quindi se ti trovi a pensare, prendi nota che stai pensando. Poi potresti notare l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome. O se un suono sveglia il meditante Dovrebbe notare il sentire, l'ascoltare. E quando ti alzi potresti stirarti, piegarti, allungarti e intanto prenderne nota. Mentre ti alzi, dici mi alzo, mi alzo. Quando ti siedi. Quando ti alzi. Quando ti lavi. Eccetera. Quindi noi pensiamo di avere, come dire, una pausa. E che la pratica è sul cuscino. E noi non pratichiamo per il cuscino, ma per tutte le attività del giorno. Ecco, quindi non è per metterci pressione, ma è per ricordarci durante il giorno. E notare che ci possono essere dei momenti che può essere buona cosa, di cui può essere buona cosa a prender nota. Fare le cose con devozione. Anche se è solo piegarti. O mettere il gel sulle mani, prima di entrare in un posto. Disinfettante. Qualsiasi cosa. Quindi non vi create pressione. Perché potreste pensare, oh, devo essere consapevole per tutto il giorno. E puoi notare che ci sono dei buchi enormi di consapevolezza. Quello che possiamo fare è notare durante la giornata quali sono le aree, i momenti in cui ci sono i vuoti maggiori di consapevolezza. Quando funzioniamo di più col pilota automatico. O in quale attività ti accorgi che la mente se ne va completamente. E quindi è proprio in queste aree dove i gap sono molto ampi che possiamo lavorare e fare in modo che questi gap si possano ridurre. E quindi il suo insegnante di Burma gli chiese che cosa hai notato durante l'alzarsi e l'abbassarsi. Ma quando era ben preparato allora poteva fargli domande tipo che cosa hai notato quando hai appoggiato le scarpe fuori dalla porta. E quindi non sapeva cosa dire perché erano cose che faceva in automatico. E quindi a quel punto ha imparato a guardare sempre bene cosa c'era vicino alle scarpe. ma poi un'altra volta potrebbe fargli domande perché uno ha chiesto tre volte al monaco. E poi una volta ha chiesto che cosa hai osservato mentre ti inchinavi. e poi un'altra volta ha chiesto che cosa è importante. E quindi questo semplicemente per darvi un'idea di come possono essere importanti e anche le cose che facciamo tra una cosa importante e l'altra. insomma, gli spazi. Quando ero un meditante in America sono andato molto bene preparato. Adesso ci riferisce di quando era un giovane meditante in America è andato dal suo insegnante, era molto bene preparato. Ah, gli ha fatto un ottimo report, si sentiva molto soddisfatto. E l'insegnante, Joseph Goldstein, si sentiva molto soddisfatto. L'insegnante, Goldstein, era molto soddisfatto anche lui. E quindi era così contento, si è alzato, va per uscire. And completely dropping mindfulness. Perdendo ogni presenza mentale. And then he would shout after me Hey, what about that stuff? E quindi l'insegnante gli ha gridato dietro E questo cosa sarebbe? E quindi era umiliante. Umiliante. Ok. E quindi, per ricordare almeno di lasciare le intervii per loro. Almeno fate i colloqui con presenza mentale. Ok. Ok. Ok, grazie. Let's stop here and let's sit for a minute.